Il mio nome è Pierangela Cartini, queste sono le mie opere e io amo molto disegnare, dipingere le donne, amo il colore e far esprimere loro dei sentimenti che tutte le donne non riescono a volte ad esprimere e anche vedere la donna nel futuro e nel lavoro. Amo molto il colore e mi piace di molto dipingere con i colori acrilici, perché rendono meglio e sono d'effetto. Tutto qui. Quindi Pierangela Cartini, le donne, le donne, le donne, le donne, le donne. Pierangela works on female videos. Declining a visionario world of characters, painted in a mixed effect technique. The women of Pierangela are mysterious and very enigmatic, such as her. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.